Pietro per Menichella, attaccato il portiere del Montesilvano, sfera sottrattagli e c'è il vantaggio dell'Acqua e Sapone con Caldo che approfitta di questa incertezza del portiere della città di Montesilvano. E' 1-0 dopo 8 minuti. Break dell'Acqua e Sapone, sarà dentro per Caldo e c'è l'immediato controvantaggio dell'Acqua e Sapone, è 3-2 passato un minuto dal gol di Dos Santos e di nuovo l'Acqua e Sapone a mettere la testa davanti.